Ciao, sono Ettore Amato e sono autore del libro L'amore non fa soffrire e sono il fondatore del blog AmoreMaiEducato.it Ciao, io sono Amito Torgani e sono il co-fondatore di Performarsi.net Un metodo che ha l'obiettivo di favorire e velocizzare la tua crescita personale e professionale. Siamo qui per invitarti a un evento unico, qualcosa che non hai mai visto e che cambierà il tuo modo di vedere l'amore e di vivere la relazione. Durante questo evento io ti parlerò di un nuovo modo di vivere l'amore e soprattutto ti svelerò perché l'amore non fa soffrire. Mentre io ti parlerò del motivo per cui tu attiri sempre le stesse persone e sempre le stesse situazioni e ti aiuterò a comprendere e modificare le credenze che causano tutto questo. Ma non finisce qui, abbiamo pensato di fare veramente qualcosa che nessuno ha mai fatto prima e quindi durante queste tre ore nelle quali che passerai con noi potrai fare qualunque domande tu abbia in mente. Tutte quelle domande a cui non hai mai ricevuto risposta. Quindi non ci resta che invitarti e ricordarti l'appuntamento del 6 marzo 2016 in Alessandria all'evento Chissà Perchè Capitano Tutte A Me. Ciao ciao!